Per tanti ragazzi tranisi è oramai una consuetudine il modo più rapido per entrare nella villa comunale senza dover per forza compiere un giro più largo per accedervi dall'ingresso principale. Solo che raggirare le regole sabato scorso ha rischiato di costare la vita ad un ragazzo di 17 anni che nel tentativo di scavalcare il cancello di via statuti marittimi ha perso l'equilibrio finendo infilzato con una gamba in uno dei pericolosi aculei che sovrastano la barriera in ferro. La scena per chi ha avuto la sfortuna di assistervi è stata impressionante ma per fortuna senza conseguenze fatali. Pur avendo provocato una copiosa perdita di sangue la lesione non ha interessato l'arteria femorale e il trasporto urgente al reparto di chirurgia vascolare del policlinico di Bari ha permesso al 17enne di cavarsela solo con una prognosi di 10 giorni. Ad evitare il peggio è stato l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118 che pur avendo trovato l'ingresso secondario della villa ancora chiuso poiché le chiavi o chi ne detiene il possesso non erano reperibili hanno scavalcato a loro volta il cancello e prestato le prime cure al ragazzo ferito mentre l'ambulanza accedeva alla villa dall'entrata principale. Non sono mancate le polemiche sulla pericolosità di quel cancello o sui motivi che ne hanno consigliato la chiusura oramai da diversi anni. Pare che il varco non sia accessibile per ragioni di ordine pubblico dato che quella zona non è sottoposta a sorveglianza alcuna. In pratica piuttosto che utilizzare un guardiano o ampliare la vigilanza a pagamento si preferisce continuare a mantenere il cancello chiuso. Ferma restando la superficialità con cui i ragazzi si rendono protagonisti di gesti oramai consuetudinari con cui mettono seriamente a repentaglio la loro incolumità forse sarebbe il caso di rendere quel cancello meno pericoloso o addirittura di aprirlo.